Giornate intense per i candidati a sindaco ad Assisi, ben sette in attesa dell'ufficializzazione dell'ottavo in rappresentanza del movimento Il Popolo della Famiglia. Intanto mentre stiamo andando in onda la presentazione ufficiale del sindaco uscente, il primo cittadino Antonio Lunghi che in carica in questo momento ufficializza la sua discesa in campo, anche le liste civiche e le forze politiche che lo sosterranno, tra queste si parla anche della Lega Nord. Io dopo aver riflettuto e ottenuto i risultati che volevo ottenere, cioè approvato il bilancio 2016, approvato il piano regolatore strutturale in maniera definitiva e operativa, ho deciso di scendere in campo. Per quale motivo ho deciso di farlo? Ho deciso di farlo perché ritengo che Assisi sia un buon modello amministrativo anche nella nostra regione, che in questi anni noi abbiamo operato bene e che dobbiamo continuare su questa strada. Faremo tesoro delle cose positive e delle cose negative che sono successe in questi anni, cercando però sempre di essere all'altezza di questa città che è una città meravigliosa e che ha bisogno di essere governata con sapienza ma anche con lungimiranza.